Ciao ragazzi, io sono Demes, io sono Zion, e oggi vi stiamo proponendo, lo so, non dovrei parlare io in realtà perché non è mia, però è sua. Comunque, sarei fatto che un canale di YouTube non può mancare l'unboxing di una PlayStation 4, quindi a seconda che prenderei proprio pochi momenti fa, e direi di scattarla e vedere che cazzo ci asce. Comunque, che cosa preannuncia questo video? Chiaramente, adesso, come vi avevamo detto in un precedente vlog, chiaramente avere una PlayStation 4 si porta a poter fare giochi della PlayStation 4, ma penso che ce l'avano arrivati anche voi. Io scusate se non faccio niente, ma non essendo la mia console non voglio fare un casino e poi prendermi la responsabilità, anche perché con quello che costano le console... Ci agribbio. Allora, qui che troviamo i soliti fogliettini del cazzo, inutili comunque, che nessuno leggerà mai. Io li legge, no? A meno che non c'è l'assicurazione, o come si chiama, quindi li mettiamo lì da parte. Adesso li metto qua su. Il joystick nuovo che ho fatto molto parlare perché è un po' bruttino, a me non mi dispiace, detto sinceramente. Facciamo vedere. Tipico joystick della PlayStation 4. Posso... come no? Vai. Che te ne pare? Ok, poi avrei spostato di qualche grado verso l'interno questi cosi qua. Per il resto va bene. Poi un grande ammasso di fili, come potete vedere. Che cazzo è qua? Vabbè, questo è il cavo, penso, del connettore per il joystick. Questo sarà l'HDMI per il video. Secondo me è comodo, però. Ah, ve lo proveremo. E questo chiaramente è gli auricolari e la coprente, vabbè. E poi penso che il pezzo forte sia questo, no? È ovvio. Con lo viene. Ecco, bisogna stare più attenti. Ok. Benvenuto a casa. Cazzo, non dice, ma che cazzo di unboxing fai? Porca puttana, non fai vedere un cazzo di niente. C'avete ragione, ma ho paura di farla cadere. Porca madonna. Aspetta. Guarda un secondo. No, ci stiamo, ci stiamo. Guarda questo. Ok. Eccoci qua. Questa è la PlayStation 4. Colore nero. E ci vediamo anche in faccia, guardate. E insomma. Ovviamente, essendo nero, si vedono le editate. Eh, infatti, ciao. E grazie alla maggior dell'editing siamo di bene qui. Buongior, raga, era un unboxing semplice. Avevamo pensato che comunque non era... Dovevamo fare un unboxing della PlayStation 4 sul canale. Quindi eccoci qua. Come avevo detto, Infamous, è uno dei primi giochi che prenderemo il 21 marzo. Quindi aspettatevi subito qualche video. Potremmo stare finalmente largato. Altre annunci? Beh, possiamo parlare che molto presto ci sarà la nostra rubrica. Sì, inizieremo una nuova rubrica. E probabilmente... Diciamo il titolo? Sì, sì. Il titolo è Tu easy vi parla di... Puntini puntini. Così spaziamo un po' di tutto. Possiamo fare... Dai videogiochi. Principalmente videogiochi. Perché tanto il canale parla di quello. Però se avete visto qualche video precedente, Tipo il TG, Per farne una, Vedete che siamo abbastanza relativi... O relativamente creativi, quindi... Spazzeremo insomma un po' su tutto. Sì. Quindi penso che abbiamo letto abbastanza, Forse anche troppo. Infatti penso che la prima puntata... Cercheremo di farlo uscire oggi stesso. E... Infatti mentre voi vi state godendo... Magari l'unboxing, Noi stiamo facendo il video. Non so quanto stiamo godendo l'unboxing. Non so, è finito l'unboxing. Quindi teoricamente per aver già chiuso il video, Ho detto, basta, non voglio sentire i due coglioni. Ciao. Chi ci becchèi. È vero. E per oggi è tutto. Da Zion e... Da Emes. Ci vediamo alla prossima. Sì, ciao. Ciao. Bye.